in italia alla fine dell'ottocento il rinnovamento del linguaggio poetico non si deve alla scapigliatura ma a due poeti giovanni pascoli e gabriele d'annunzio essi vivono e operano tra la seconda metà dell'ottocento e gli inizi del novecento il primo nasce nel 1855 a san mauro di romagna e muore nel 1912 il secondo originario di pescara dove nasce nel 1863 ben più longevo vive da protagonista il primo conflitto mondiale giungendo alle soglie dello scoppio del secondo infatti muore nel 1938 le loro vicende biografiche sono agli antipodi giovanni pascoli conduce per lo più una vita appartata pur avendo conseguito una consolidata fama come poeta e pur essendo un affermato professore universitario egli mantiene le distanze dalla scena pubblica e raramente fa sentire la sua voce al di là della sfera propriamente poetico letteraria assegnare profondamente la sua esistenza è la serie di lutti familiari in primis la morte del padre che determinano la dissoluzione del nido di quella famiglia che il poeta cercherà di ricomporre con le due sorelle rinunciando a sposarsi gabriele d'annunzio al contrario conduce una vita all'insegna di quella che oggi chiameremmo sovraesposizione mediatica è infatti il primo intellettuale italiano a capire e a sfruttare le potenzialità dei media moderni soprattutto il cinema la fotografia e la pubblicità negli anni alla fine dell'ottocento fino agli anni venti del novecento egli costruisce un'immagine pubblica di sé caratterizzata da almeno tre aspetti il primo è proprio il culto dell'immagine d'annunzio si fa ritrarre in pose inusuali per un uomo talora discinte e si impone come cultore aristocratico della bellezza dell'eleganza del lusso sfrenato e soprattutto come tomber de femme dal fascino irresistibile e dall'intensa e spregiudicata vita amorosa il secondo aspetto è il protagonismo sulla scena letteraria e la straordinaria versatilità artistica d'annunzio non è solo un poeta ma anche un giornalista un romanziere un drammaturgo uno sceneggiatore scrive i titoli del primo colossal del cinema italiano cabiria e non disdegna la pubblicità per la quale inventa il nome di alcuni marchi famosi come quella dei biscotti saiva il terzo aspetto è dato dal protagonismo e dall'attivismo nella sfera politica d'annunzio è un uomo d'azione non solo un intellettuale come testimonia la sua partecipazione alla vita pubblica e politica del paese tra la fine dell'ottocento e la prima metà del novecento viene eletto deputato due volte ma soprattutto all'età di 53 anni prende parte come volontario al primo conflitto mondiale dopo esserne stato un fervente quanto esagitato sostenitore anche la sua partecipazione al conflitto fu all'insegna della spettacolarizzazione degli effetti speciali lontano dalle trincee fangose e sporche dove morivano a migliaia i poveri fanti dell'esercito italiano d'annunzio si rese protagonista di innumerevoli azioni militari soprattutto su mezzi aerei famoso il volo su vienna il 9 agosto del 1918 e navali per esempio la cosiddetta beffa di buccari memorabile infine dopo la fine del conflitto l'impresa di fiume del 12 settembre del 1919